Il Consiglio Comunale si è riunito il 15 luglio nella sede di Via Verdi per l'approvazione della manovra di bilancio 2011. È stato dedicato un minuto di raccoglimento alla memoria dei due ultimi caduti italiani in Afghanistan. L'assessore D'Alfonso ha quindi svolto la relazione sulla manovra previsionale 2011 e sul consuntivo 2010. I punti principali del bilancio di previsione su quale si è soffermato sono il mantenimento dei servizi fondamentali dell'ente, l'istituzione di una task force anti-evasione, la semplificazione della macchina comunale, la riduzione delle società partecipate ed il potenziamento della raccolta differenziata. Ha preso poi la parola il Fidio Capasso, presidente della Commissione Bilancio, sottolineando l'intenso lavoro svolto dalla Commissione sulla manovra che è definito efficace per eliminare gli sprechi e ottimizzare le risorse. Ha approvata maggioranza anche la delibera sulla ricognizione dei debiti fuori bilancio. Sono state almeno 700 le persone che hanno seguito la seduta del Consiglio Comunale, in diretta streaming audio, collegati al sito del Comune e a quelli del Sindaco.